Cari amici, la temperatura esterna è di 32 gradi al sole. Un magnifico 30 settembre, sta finendo settembre, domani è il primo ottobre eppure sembra ancora estate. Anzi, per certi aspetti vi dico è meglio dell'estate. L'aria è più pulita, il cielo è terzo e poi c'è l'escursione termica la sera, per cui la sera si respira, fa fresco, a differenza delle affose, stati calde che anche la sera non si riesce a respirare. Quindi vi dirò è meglio così. Ed è un piacere viaggiare in mezzo alla campagna, con questo cielo azzurro e con questo verde degli alberi. Quindi godiamoci questo spettacolo della natura, che quest'anno è particolarmente generosa con noi, almeno qui al centro Italia, per questo siamo fortunati, perché sappiamo benissimo che invece altrove ci sono stati dei grossi problemi con allerta meteo vari. Però prendiamo ciò che di buono ci sta arrivando da questa natura amica e che non dobbiamo assolutamente far arrabbiare. Prendiamola bene. Grazie a tutti.